Stato di agitazione tra i dipendenti dell'ATM, qui vengono riparati i tram, i lavoratori sono stanchi di continuare a mettere mano a mezzi vetusti e a materiale rotabile da buttare. Tornano agitate le acque tra i lavoratori del trasporto pubblico di Milano che ieri mattina presso il deposito ATM di via Teodosio hanno interrotto il lavoro e si sono riuniti in assemblea. In circa 200 hanno protestato contro un provvedimento disciplinare dell'azienda per uno scambio difettoso che aveva causato qualche giorno fa il deragliamento di un tram. I lavoratori sostengono che il guasto non fosse colpa di una cattiva manutenzione ma per il cattivo stato in cui versano i binari e gli scambi in varie zone della città. C'era già un po' di malessere prima all'interno della struttura, poi ovviamente queste procedure che sono arrivate in contestazione nei confronti dei lavoratori non hanno di certo aiutato il clima, anzi insomma ha esasperato un clima che magari poteva essere già atteso per tutta una serie di fattori che stiamo vivendo all'interno del deposito e delle manutenzioni in generale. E poi ovviamente non è solo una questione dell'Officina Generale ma anche delle altre località dove ci sono le manutenzioni. Dal canto suo l'azienda ha avviato un'indagine disciplinare che ha coinvolto dieci tra operai e capi. In uno specifico incontro tenutosi fra l'azienda e le rappresentanze dei lavoratori è stato confermato che l'azienda intende andare a fondo nell'individuare le motivazioni e le responsabilità a qualsiasi livello di quanto accaduto. Ma per i sindacati il coinvolgimento nell'inchiesta dei lavoratori non è la risposta giusta ad una situazione che francamente ha ben altri aspetti di carattere politico ed amministrativo. Anche la notizia odiana che è uscita oggi di questi ulteriori 27 milioni di euro di taglio questo sicuramente non aiuta anche le aziende per andare a intervenire sulle infrastrutture perché è un taglio di un'importanza notevole. La prima cosa che ci sarebbe da fare secondo noi è cercare di avere una migliore e più efficace manutenzione e piano di revisione su tutta la rete perché problemi di circolazione questo io non lo dico però ovviamente ci sono degli scambi che sono datati e avrebbero bisogno di avere un'accurata manutenzione. Non che non si fa perché fino adesso purtroppo i procedimenti sono arrivati fino a un certo livello basso degli operai e qualche preposto. Però fino adesso si stanno girando e per l'impegno che queste persone ci stanno mettendo quotidianamente da anni in varie condizioni anche non ottimali perché lavorare a Milano nel traffico con il problema di circolazione è sempre una cosa molto molto difficile.